Il modello 730 quest'anno subisce una modifica a livello di tracciato telematico perché il file che si inviera all'Agenzia delle Entrate non è più su tracciato ministeriale come siamo abituati a conoscerlo, quindi avere un file che all'interno ha una variabile con a fianco il valore da dichiarare, ma si utilizza il tracciato XML che è un tracciato che già è stato utilizzato lo scorso anno per il modello IRAP quindi l'intenzione dell'Agenzia per il futuro è di passare pian piano tutta la modulistica su questo nuovo tracciato vedremo quando avverrà questo per i modelli unico, anche perché di mezzo ci sono gli studi di settore quindi se anche questi dovranno passare su tracciati XML ci sarà del lavoro da fare in ogni caso dal vostro punto di vista l'operatività è invariata perché comunque voi create il vostro file telematico, lo passate ai controlli di Entrate e lo spedite quindi sostanzialmente il lavoro più che altro è nostro perché dobbiamo cambiare appunto il metodo di scaricamento dei dati vi cambieranno probabilmente le messaggistiche di Entrate, perché essendo un tracciato diverso anche i messaggi sono già dati in modo diverso abbiamo già avuto l'esperienza dell'IRAP lo scorso anno alcuni messaggi erano un po' criptici quindi speriamo che quest'anno l'Agenzia delle Entrate abbia definito un metodo più chiaro anche dal punto di vista utente per cercare di individuare meglio ogni errore a che cosa si riferisce in ogni caso il nostro servizio di assistenza è sempre a vostra disposizione in caso di bisogno in merito alla creazione dei file telematico abbiamo colto l'occasione di questo cambio anche per modificare un po' la procedura di creazione del file telematico delle nostre dichiarazioni l'abbiamo un po' semplificata in modo da farvi eseguire meno passaggi per arrivare alla creazione del file nella versione che riceverete i primi di maggio questa semplificazione la vedrete nel modello 730 e nel modello 770 poi man mano che rilasceremo tutti gli altri telematici la estenderemo anche a questi quindi diciamo che arrivando poi alla fine dell'anno avremo modificato la gestione invio telematico un po' di tutti i modelli dichiarativi intanto per farvela vedere vi dico che il menu di creazione del file telematico è sempre lo stesso quindi si chiama gestione invio telematico in che cosa consiste la nostra modifica adesso elimino la trasmissione già fatta in modo da crearvela nuova la modifica consiste nel fatto che quando voi andate a creare la trasmissione quindi date una data confermate con ok e fate la solita lista pratiche quindi selezionate le pratiche che devono essere trasmesse quando confermate il programma automaticamente rigenera la fornitura e non dovete fare nessun pulsante controllo nessun pulsante crea e non è neanche richiesta la preventiva stampa del modello ministeriale perciò fatta la pratica potete creare il file telematico semplicemente richiamando la pratica della lista e confermando con ok quindi si velocizza un po' il passaggio perché saltate sia la fase di stampa che i comandi che c'erano prima che erano controllo e crea è stato tutto unificato in un unico comando che si chiama appunto ok o comunque vedremo se dargli un nome particolare però è sempre l'F10 diciamo quindi vedete che la mia trasmissione è già accorpata e l'unica cosa che dovete fare è la coppia come siete abituati quindi copiare il vostro file telematico nel vostro pc definendo eventualmente un percorso locale dove scaricare i file telematici e poi eseguire la copia naturalmente è rimasto il pulsante Entratel che vi consente di controllare il file telematico prima di copiarlo sul vostro pc quindi di verificare se ciò che è stato inserito nel file telematico contiene o meno degli errori quindi ribadisco questa semplificazione adesso la noterete nel modello 730 e nel modello 770 infatti rilasceremo anche l'invio telematico del modello 770 nella prossima versione e poi pian piano la estenderemo anche agli altri modelli dichiarativi grazie a tutti